Signore e signori, abitanti di Montesagro e del mondo, ora inizio la quinta edizione della manifestazione artistico-culturale Arte in strada, ideata da Alessandro Leone ed Emanuele Bellini e patrocinata dal quarto municipio di Roma Montesagro. La moglie del capisciotto, quando il marito fa il professore, se lo interrompe, gli mette il musone, così la fa finta di sentirlo a mente e di ripetere il tornello, tu sei in capisciotto, ma quanto rompi, ma quando è che fai il posto? Gli mette bocca e naso in cucina, dove lei dovrebbe essere la regina? Gli controlla la cottura, gli controlla la portale, gli controlla solo le cadastro, i volanti dei prati, unito, il pesco, il penere e il margenese, socciona gli occhi, unito, gli evo per il cuore, gli amminisce le mezza, che avvolgerisce un soldo. Io sono quello che mi cammina accanto e che a volte vado a trovare, altre volte dimentico che quando parlo mi ascolta in silenzio, che quando odio mi perdono, dolcemente, che quando riesco rimane dentro, quello che quando muoio rimane in giro. Grazie. 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 Grazie a tutti, siamo presenti alla pagina Facebook, parte locale. È possibile avere un circolo per il proprio quartiere, per la propria vita di residenza, per il proprio condominio, e qualche valore, da grande visibilità, almeno tra i propri amici e parenti, e soprattutto è importante aderire a un gruppo giovane, perché solo così potremmo far bene all'Italia, ma una tutta anche la nostra città. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie per la visione! La quinta edizione di Arte in Strada si chiude qui, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a tutti gli abitanti del quartiere che sono intervenuti. Sperando che vi siate divertiti, vi salutiamo e vi auguriamo buona domenica sera a tutti. Ciao!